Due partite in tre giorni per la Lucchese e poi la sosta per le festività natalizie per ritrovare le energie giuste per poter risalire una classifica che relega ancora i rossoneri in ultima posizione con nove punti. Domenica alle 15 ospite del Livorno, poi mercoledì alle 17.30 arriva al Port Elisa la cara rese in piena corsa nei piani alti della classifica. Nonostante i problemi societari dei labronici che hanno visto l'intervento dell'ex patron Aldo Spinelli in extremis che ha ridato speranza e fiducia per il futuro, non scenderà in campo certamente una squadra rassegnata. Un motivo in più quindi per i rossoneri per cercare di far bene dopo la prima vittoria a Casalinga sul Piacenza per 1-0 grazie alla rigore trasformato dall'attaccante Bianchi. Mister Lopez sembrerebbe intenzionato a dare fiducia allo stesso Undici che ha centrato tre punti preziosi. Sono ancora inutilizzabili per infortunio Benassi, Cruciani, Moreo e Locurto. Formazione quindi con Papini, De Vito e Solcia in difesa davanti alla portiera Ecoletta, mentre a centrocampo l'unica novità potrebbe essere Kosovan al posto di Meucci o Nannelli in vista delle gare ravvicinate. Sugli esterni panati ad amoli e bianchi, ad accento dell'attacco sopportato da Convitto e Nannelli. Nel Livorno c'è il lucchese Andrea Gimignani, tifoso rosso-nero, 24 anni, terzino sinistro di Santa Maria Colle.